Allora, nella logica della sinergia, un'industria è quella che ha fatto prima e in tempi non sospetti. Allora, chi meglio di Giovanni Turriziani, presidente di un'industria frosinone, per illustrare i temi di questo dibattito. Prego. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera a tutti gli intervenuti. Un ringraziamento alle autorità civili e militari presenti, in particolare Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Spreafico, Sua Eccellenza il Prefetto Ignazio Portelli e anche i sindaci destinatari di questo nostro lavoro, Nicola Ottaviani, Antonio Pompeo, Giuseppe Morini, Roberto Caligiore, Simone Cretaro, Gianfranco Barletta, Lucio Fiordaliso, Mauro Assante, i nostri deputati, senatori, consiglieri regionali. Un'industria è da sempre attenta allo sviluppo economico, nell'accezione più ampia del termine, ossia dell'attrattività e della competitività di un territorio, con tutte le ricadute sociali connesse a questo principio. E in questa logica il nostro Presidente Filippo Tortoriello non è potuto essere qui, perché chiamato dal Governatore della Regione Lazio, Zingaretti, nel tavolo delle multinazionali, a rappresentare e significare l'importanza e la strategicità dei grandi gruppi industriali per lo sviluppo sostenibile nella nostra Regione. L'associazione non è sempre uguale, non è sempre la stessa, magari visto dall'esterno può sembrare così. In realtà è in continua trasformazione, ha una pelle che cambia dall'interno e quello che ci sta dando è una visione diversa anche della realtà sociale nella quale esercitiamo le nostre attività. Dobbiamo guardare in prospettiva, quindi avere una visione prospettica, dobbiamo avere una visione molto ampia e inclusiva di tutta la realtà che abbiamo intorno, dobbiamo al contempo avere anche una profondità, quindi mai essere superficiale nelle analisi e nel contesto che andiamo a analizzare. E proprio per questo non posso staccarmi dalla realtà che viviamo, sua eccellenza è stato più buono del solito e più clemente, forse perché è periodo di avvento, ma questa volta la faccio un po' io la predica se mi consente, a qualche azienda del territorio che non opera correttamente. Quindi voglio esprimere la mia solidarietà al sindaco Caligiore, alla popolazione di Ceccano che in questo momento è colpita da dei danni. Ovviamente il nostro intento è quello di andare a identificare i colpevoli, quindi se c'è un'azienda, due aziende, tre aziende che non operano nella legalità noi le vogliamo isolare, che il cerchio si chiuda intorno a queste, ma non vogliamo colpevolizzare tutte le altre, perché proprio da le aziende piccole, medie e grandi che fanno parte di questo territorio che c'è uno sviluppo economico e uno sviluppo sociale. Non serve chiuderle tutte o bloccarle tutte, dobbiamo isolare i colpevoli che commettono certi reati. E dico a queste aziende che purtroppo creano un danno a noi, a tutti quanti gli altri. Quindi le altre aziende che operano nella legalità di questo territorio sono le prime, oltre alla popolazione, ad essere danneggiate da questo comportamento. Ma siamo fiduciosi che gli organi di controllo sappiano individuare i colpevoli. Quello che vi chiediamo è non buttate via le aziende buone con l'acqua sporca. Scusatemi l'inciso, ma sentivo di dover affrontare questo argomento, proprio vivendo questa realtà. Torniamo al nostro studio, per ricordare che un'industria ha già realizzato degli studi analoghi sulla città metropolitana di Roma, sta promuovendo una proposta di masterplan su Roma Futura 2030-2050 ed ha pensato su Frosinone di studiare la possibilità di realizzare un grande sistema intercomunale basato sull'unione volontaria di comuni confinanti. Il progetto da noi voluto, che si chiama Unione di Comuni per un nuovo capoluogo, sistema cooperativo di città del Frusinate, ma non è già il nome dell'unione, è semplicemente il nome dello studio, è stata affidata all'Università degli Studi di Tor Vergata, ha delle radici su questo territorio, è inclusivo e ci permette di avere, come dicevo prima, una visione di prospettiva, da qua almeno ai prossimi vent'anni. Non è un'idea nuova, lo dico anche al coordinatore dei lavori se ci dovesse tornare sopra, non è un'idea nostra, è un'idea che è sempre stata lì, altri studi prima di noi hanno affrontato questo tema, magari mettendo un aspetto al centro, chi l'ha analizzata da un punto di vista urbanistico, chi l'ha analizzata da un punto di vista amministrativo, chi da un punto di vista energetico. Noi l'abbiamo fatto un po' a 360 gradi, ma chiedendo a questo gruppo di ricercatori di entrare nei dati numerici, cioè di farci capire con un'analisi puntuale, analisi costi-benefici, a che cosa potrebbe portare. Quindi non rimanere nella superficie delle cose, ma scendere in profondità, perché è un'idea che molti di noi hanno, cioè si percepisce che può essere buona, ma fino a che non si scende nei numeri non riusciamo a capire quanto. Oggi quest'idea rappresenta un'occasione da cogliere nell'interesse della collettività, mettendo da parte i localismi, i personalismi e le contrapposizioni. Si tratta di dare concretezza e attuazione a un'unione di comuni che di fatto è già venuta spontaneamente sotto il profilo urbanistico. Non c'è soluzione di continuità fra queste città che abbiamo toccato nel nostro studio. Ormai non si distingue più l'abitato fra Ferentino, Frosinone, Ceccano, Veroli e gli altri comuni con termini, con il rischio di trovare da una parte un'industria, da un'altra parte una casa, da un'altra parte un asilo, da un'altra parte un esercizio commerciale, proprio perché manca una visione comune. La ricerca parte da un presupposto incontrovertibile. Stiamo perdendo un peso specifico. Analizziamo un dato che insieme alla professoressa vedremo. La popolazione totale dei comuni che tocchiamo è diminuita negli ultimi anni, dal 2011 al 2017, del 2,21%. A primo impatto potremmo essere portati a pensare non è poi così male, ma sarebbe un continuare a ostentare la nostra idea di vivacchiare sempre per quello che siamo. Possiamo dire che non è andata male, ma esattamente il contrario. Partiamo da questo dato per dire che è cambiato tutto proprio perché non è cambiato niente. Non ci dobbiamo pesare con noi stessi, ma ci dobbiamo pesare rispetto a un mondo che cambia, rispetto alla globalizzazione, rispetto a Roma, rispetto a Napoli, rispetto a Latina, rispetto a Caserta. Ognuna di loro, a modo loro, sono realtà che si stanno evolvendo verso qualcosa. Siamo noi che stiamo perdendo qualcosa, anche rimanendo di fatto gli stessi. Assistiamo a un ridimensionamento che ha avuto come conseguenza, per esempio, la perdita di importanti istituti nazionali, istituti quali, ad esempio, a mero titolo, la Banca d'Italia, la sete della Costituenta Camera di Commercio dell'Azio Meridionale, parte del sistema ospedaliero, altri centri direzionali e amministrativi delle nostre grandi aziende, soltanto per citare alcuni casi. Allora ci dobbiamo interrogare cosa vogliamo essere da qua a vent'anni. Vogliamo crescere insieme o vogliamo disgregarci? Chi andrà verso Roma Sud, chi verso Caserta Nord, chi verso Latina Est. Nulla volendo a queste realtà con le quali confiniamo, vogliamo essere un'altra cosa, vogliamo essere un polo d'attrazione dove siamo. Stando così le cose, risultiamo anche invisibili all'Europa, all'accesso diretto ai finanziamenti, che è limitato a realtà con almeno 50.000 abitanti, che nella nostra provincia non esistono. Anche se siamo una provincia di 500.000 abitanti, oltre 500.000 abitanti, siamo 91 comuni e il che ci fa disgregare in tante piccole realtà. Lo ripeto, questo studio è stato pensato intorno a Frosinone come punto di partenza, ma è replicabile in altre aree geografiche della nostra provincia, del nostro territorio. La soluzione presente nel progetto può essere quindi quella di unirsi per cercare di recuperare competitività. Mi preme evidenziare sin da subito che con tale iniziativa vogliamo contribuire a rendere il territorio più competitivo, rispondendo non solo alle esigenze delle imprese, ma anche alle richieste dei cittadini che lavorano e vivono qui, nella nostra provincia. L'Unione, che è assolutamente unica come progetto a livello nazionale, per dimensioni e di impatto, perché sarebbe la prima in Italia a superare i 150.000 abitanti. Ne sono state fatte molte e diverse, ma di dimensione inferiore. È la prima di 150.000 abitanti. Sarà rispettosa, potrebbe essere rispettosa, delle identità locali, sarà policentrica e dunque capace di confrontarsi con il sistema della capitale e mettendo a sistema aree caratterizzate da una significativa integrazione economica e sociale di fatto. Pertanto quello che si vuole affrontare non è un problema soltanto di perimetri, ma di efficienza e di visione, perché è necessario innovare ed immaginare nuove dimensioni, accanto alle storie e vocazioni che ciascun comune potrà mantenere. Quindi cominciamo subito a dire ciò che lo studio non è, per togliere qualche pregiudizio. Non è un organismo che cancella i comuni. Essi manterranno i loro uffici e non subiranno diminuzioni di poteri. I comuni manterranno la loro identità. Non è una critica ai sindaci. In questo periodo le risorse economiche sono scarse. Quello che fanno con queste poche risorse a disposizione è tantissimo. Il sistema dei comuni sta impletendo di per sé. I nostri amministratori che abbiamo incontrato in questi mesi per presentargli in anticipo il progetto stanno facendo il massimo con quello che hanno e non vuole essere una critica a loro. È il tentativo di fargli avere di più, di fargli arrivare maggiori risorse. Non è un organismo che toglie i servizi primari ai comuni. Essi mantengono i loro uffici, i dipendenti comunali non diminuiscono, ma anzi c'è la possibilità di sbloccare il turnover che oggi impedisce alla pubblica amministrazione di rimpiazzare il personale. Non è un organismo che diminuisce, non è una qualsiasi unione, questo l'ho già detto. Non è una sostituzione di un'industria al mondo della politica. Un'industria vuole soltanto fornire uno studio per il territorio. Saranno i sindaci ed i cittadini i veri protagonisti della scelta o meno di realizzare il progetto. che oggi viene messo a loro disposizione. Non è una proposta che vuole penalizzare altri territori. È una proposta per noi. Non è per l'Europa e non è contro l'Europa. È un'idea per sopravvivere. Adesso che ho evidenziato quello che la ricerca non è, mi soffermo brevemente su quello che lo studio è e poi lo farà meglio di me sicuramente la professoressa Maria Prezioso. È quindi, l'ho detto già, accesso diretto all'Europa, risorse specificatamente erogate per l'Unione dei Comuni. È migliore pianificazione del territorio. È miglioramento del livello complessivo di offerta di servizi da parte dei comuni coinvolti, sia in termini di ampliamento della gamma dei servizi, sia in termini di un'aumentata capacità di soddisfazione della domanda potenziale, nonché di specializzazione del personale. Ringrazio la professoressa Maria Prezioso e tutto il suo team, Angela Dorazio, Maria Coronato, Alessandro Fessina, Michele Pigliucci, per l'ottimo lavoro svolto. E mi preme ancora evidenziare che si tratta di uno studio scientifico che ha analizzato una grande mole di dati, si è soffermato a valutare aspetti giuridici ed amministrativi, dando suggerimenti per come realizzare questa proposta. È stato uno studio lungo e faticoso, selettivo ed accurato, che ci fa avere una visione dall'alto e che ci fa uscire dalla autoriferenzialità, perché ci confronta con gli altri. Abbiamo deciso di condividerlo e di metterlo a disposizione di tutti, perché l'idea è sempre stata lì, da qualche parte, a portata di tutti, e forse proprio per questo nessuno l'ha mai raggiunta, perché lo si deve fare insieme. E allora iniziamo a goderci insieme questa visione dall'alto. Invito la professoressa Maria Prezioso a relazionarci. Grazie. 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 Grazie.